Cosa posso fare per te? Fai attenzione là fuori. Menti Anglania può indirizzarti verso le operazioni del Chirin Thor nella vastità azzurra. Falle solo sapere che sono Massoud e Pachina a mandarti. Weee, quante altre avventurieri dovremmo cercare? Forse altri tre o quattro. Cinque avventurieri sembrano il numero giusto per qualsiasi missione. Mi dispiace, ma non so come si fa questa... Pesca. Non possiamo farlo dopo? Beh, se insistete a esaminare il pesce per cercare questa... Essenza, allora dovete aiutarmi a catturarne altro. Ah, sono felice di vederti. Lascia che la magia ti scelga. Ti prego, fai attenzione. Che i tuoi colpi vadano a segno. La tua storia verrà tramandata. La tua storia verrà tramandata. Bella pescata! Bella pescata! La tua storia verrà tramandata. Ottimo lavoro! Hai già pescato prima? Così dovrebbe andare. Io ne ho presi cinque. Glania, quanti ne hai? E... uno. Che le tue reti siano sempre, questo sarà più che sufficiente per Iscara. Avete entrambi la mia gratitudine. Ho combattuto demoni su Argos. Sono sopravvissuta alle prove della luce. Non me ne andrò fin quando non avrò acchiappato questi maledetti pesci! Salve! Vai in pace! Sì! 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 No! Sì! 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 T-t-t-t-t-t Lavoro completato Salve viandante! Arrivederci! Ah! una nuova faccia racconterò a tutti la tua storia la tua storia Mi serve un bersaglio. Lavoro completato. Oh, tu sì che sei un esemplare... diverso. Oh, tu sì che sei un esemplare. 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 Non abbiamo più notizie della pattuglia allo scudo di Ronin. Ah, è bello vederti. Oh, tu sì che sei un esemplare. 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 Lavoro completato. Lavoro completato. Il Kirin Tor ti dà il benvenuto. Parleremo presto. Le isole si sono risvegnate. Come stai, viandante? Se vedi che... Dobbiamo solo trattenerli ancora un po'. Kalegos dovrebbe giungere a breve. Ti proteggerò il più, proteggerò il più a lungo possibile. Abbatti quei dratti. Innanzi per l'arca. Torni per l'arca. Si trattavi. Ma attacca. Torni per l'arca. Ti proteggiamo. Questa è un esemplare. Torni per l'arca. Torni per l'arca. Ti proteggerò il più. Tu sei che l'arca. Veni per l'arca. Torni per l'arca. Perspetti, qualche ha av 각o diaires. È un esemplare. Ottimo lavoro Aspetta, stanno arrivando altri primalisti Ripiegare! Stabiliremo postazioni di difesa Il Kiritor non cadrà per manno di questi mostri Devo fare retorno ad archivi Serve aiuto il prima possibile Fare mettere le mani sulla pietra del giuramento azzurro Si sta rivelando un'impresa difficile Devo respingere le forze dei primalisti a est Potrebbe toccare a te supportare Kalegos, prode combattente Questa terra è piena di bizzarrie Parleremo presto Questa terra è pervasa da un'antica magia Non lasciare che ne occuperemo dei primalisti rimasti a est Conto su di te per aiutare Kalegos, viandante No! No! Ah, questo è il pacchetto da prendere in caso Khadgar non sia disponibile. Ne manca ancora uno. Eccolo qui. Torna se hai bisogno di altro. Lavoro completato. Piacere di conoscerti. Arrivederci. Lavoro completato. Piacere di conoscerti. Ah, il brevido della caccia! Buona caccia! Che la tua mira sia infallibile! Non troverai niente di meglio sulle isole. Spero di poter fare affari di nuovo con te. Sarò sempre al tuo servizio. Ah, come e. Allora. Sono piaci. Grazie a tutti. 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 Fuori dalla mia portata. Lavoro completato. Lavoro completato. È della migliore qualità. Hai bisogno di qualcosa? Buon viaggio. Grazie a tutti. Lavoro completato. Ciao. Ci vediamo. Buon viaggio. 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 Hey! Tavoro completato. Quello che ti serve! Segui la tua strada! Lavoro completato. Lavoro completato. Lavoro completato. Hai trovato qualche tomo sulla pietra del giuramento azzurra? No, temo che le nostre ipotesi siano corrette. È un problema con le linee di faglia. Come posso aiutare? Buona fortuna. Che il tuo volo sia sereno. Andrà tutto bene. Ci vediamo sopra. Allora, sto facendo progressi con i problemi riguardanti la pietra del giuramento azzurro. Lavoro completato. Ti do il benvenuto negli archivi azzurri. Fa' attenzione. Nessuno viene più qui da millenni. Sono felice di rivederti. Sono felice di rivederti. Possiamo compiere qualsiasi impresa. Sono con te. Torna presto. Buona fortuna. Buona fortuna. ... Dove è io? Devo avvicinarmi? Devo avvicinarmi! Devo avvicinarmi! Devo avvicinarmi! Devo avvicinarmi! Devo avvicinarmi! E tu... chi sei? Devo avvicinarmi! Devo avvicinarmi! Devo avvicinarmi! Non ho pensare! Devo avvicinarmi! 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 La magia risiede in ogni cosa. 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 La magia risiede in ogni cosa.